90 minuti nella discarica dei veleni di Bussi sul Tirino. La presidente della Camera Laura Boldrini questa mattina accompagnata dall'assessore regionale all'ambiente Mario Mazzocca, dal sindaco di Bussi Salvatore Lagatta e dal direttore tecnico dell'Arta Giovanni Damiani ha visitato la discarica Tremonti e ha voluto conoscere tutte le vicende che hanno accompagnato la storia della discarica dei veleni e le problematiche ancora in essere. Laura Boldrini ha parlato di deficit decisionale da parte di tutti sottolineando che le esigenze legate alla messa in sicurezza della discarica non possono essere più procrastinate nonostante siano passati otto anni dalla scoperta del sito inquinato. In questo senso la presidente della Camera dei Deputati ha confermato il suo personale impegno per sollecitare il governo alla bonifica e reindustrializzazione del sito produttivo. Io mi sono impegnata a fare tutto quello che è nelle mie facoltà, investirò le commissioni della Camera dei Deputati e segnalerò anche al governo questa situazione. Insomma un'attenzione politica sulla discarica di Bussi che questa volta porta la firma della terza carica dello Stato. E quindi un'attenzione massima affinché si possa davvero accelerare sul pensare a questa realtà Bussi alla Val Pescara. La conferenza dei servizi del mese scorso che ha approvato il progetto di bonifiche della messa in sicurezza della parte alta della discarica ha aggiunto l'assessore Mazzocca rappresenta un importante passo in avanti per il completo recupero del territorio. Ora è necessario passare quanto prima alla fase operativa individuando il soggetto che materialmente dovrà eseguire il progetto. Sulla discarica Tremonti sono stati fatti lavori parziali di messa in sicurezza come ha ricordato il direttore tecnico dell'Arta Damiani alla Presidente della Camera e comunque non in grado di rispondere a tutti i requisiti di sicurezza e tutela delle falde acquifere. Proprio sulla discarica Tremonti il sindaco di Bussi ha chiesto un intervento immediato in grado di rimuovere tutti gli agenti inquinanti presenti nella discarica e facilmente individuabili grazie ad una mappa del 1971 che indica tutte le zone nelle quali sono state interrate le sostanze inquinanti. I cittadini di Bussi si aspettano lavoro rispetto dell'ambiente e anche che diciamo chi sbaglia poi paghi. In fondo la giustizia, il lavoro, l'ambiente vanno d'accordo? Mi sembra assolutamente legittimo avere queste aspirazioni per quanto riguarda appunto chi non rispetta l'ambiente in questa legislatura la Camera dei Deputati ha fatto un passo enorme, un passo enorme in avanti perché per la prima volta abbiamo introdotto nel codice penale cinque ecoreati che prima non c'erano e abbiamo anche esteso i tempi di prescrizione dunque credo che il Parlamento abbia dato un segnale chiaro su questo. Oramai c'è consapevolezza del fatto che l'ambiente deve essere tutelato più di ogni altra cosa. Lo sviluppo economico non è in contrapposizione con il rispetto dell'ambiente, il rispetto dell'ambiente è il presupposto per cui ci sia sviluppo economico.